Buongiorno Archidore di Mirosauro, archidiano medicina per l'anima. Vi ricordo sempre i libri, comprateli, leggeteli e fate una buona recensione, possibilmente. Adesso il mondo vi fa vedere come si fa a fare un pacco, non fare una spedizione. Vedete questa è una catreia, un abbrassolo di catreia grazie al summer choice. Adesso metto la carta in giro in modo che non esca la corteccia. Ecco, viene fissato con la scotch. Adesso metto il passaporto delle piante, il passaporto verde che è obbligatorio. Adesso deve ballare i boccioli in modo che non si rovinino durante la spedizione. Vedete, mi può passare in mezzo, in mezzo ai boccioli il cotone, poi metto un altro cotone in modo da imballare tutto. Sì, il mondo è anche esagerato in queste cose qua. Adesso metterà un po' di carta per fissarlo. Adesso lo lega con una foglia in modo che gli da un po' più stabilità, più rigidità. troppo ci vuole tanto tempo a imballare bene. E' quello che più di tante spedizioni non riusciamo a fare perché c'è un sacco di tempo. Sì, ecco, fissa bene. Adesso l'incarta. La carta è un po' appiccicata perché c'è bagnata in cibo. prima ho finito giù un po' d'acqua con la pioggia. Ecco, adesso una pianta è pronta. Adesso prepara gli altri due da preparare. questa qui è un po' più a pedro con il bocciolino appena pronunciato. qui è molto più semplice. è molto più veloce. vedete così non esce il barco. poi sopporto. come prima viene incartata e poi niente, poi vengono imballate così. la scatola. va bene. adesso c'è la doritis. la doritis è una pianta che adesso è diventata falenopsis. era comunque molto vicino alle falenopsis. infatti ci sono le doritenopsis. sono i vari tra doritis e falenopsis. che adesso sono diventate appunto falenopsis perché la doritis è diventata falenopsis. e questa qui è una caratteristica, le doritenopsis sono quelle che quando finisce di fiorire la pianta prima che cade l'ultimo bocciolo ricomincia a partire un'altra fila di boccioli sullo stesso ramo che è fiorito. cioè praticamente ha una fioritura quasi continua. passaporto. ecco va bene adesso devo preparare la scatola. vabbè dopo la scatola e almeno la scatola e chiuderò nella scatola. ok dai a domani. arrivederci.